Un cordiale saluto e ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento del nostro telegiornale. In primo piano la pagina del lavoro, le misure a sostegno della ripresa per la provincia di Teramo sono state presentate questa mattina a Mosciano Sant'Angelo in un convegno organizzato dalla Confederazione Italiana dell'Industria di Teramo. Vediamo. Promuovere alle imprese associate dai professionisti della provincia teramana i vari strumenti, da quelli economici a quelli prettamente industriali a sostegno della ripresa e dello sviluppo. Purtroppo gli sviluppi legati al conflitto bellico non giovano queste attività e gli imprenditori sono costretti a programmare non più a tre o cinque anni ma addirittura a tre mesi. Guardate l'effetto delle materie prime che ci ha devastato nel giro di pochissimo tempo, così come anche i trasporti, così come le energie. Quindi l'imprenditore si vede un po' più trascurato e vorrebbe capire quali sono quelle linee che potrebbero sostenerlo nelle sue scelte. Tra le misure presentate oggi al convegno organizzato da Confindustria Teramo, PNRR complementare per il sisma sia a catere 2009 che 2016, programma 2021-2017 sull'intero territorio provinciale e poi la zona economica speciale attiva sui territori di Mosciano, Giuliano Veroseto, per una ripresa degli investimenti grazie a strumenti e servizi che rendono più semplice ed economicamente vantaggioso per chi sceglie di insediarsi in queste aree. Ma la cosa principale sono le semplificazioni amministrative e il credito d'imposta che viene dato alle imprese anche in modo significativo, soprattutto per le piccole e medie imprese e anche e soprattutto per quanto riguarda la possibilità di sommare e cumulare altri crediti non legati agli aiuti di Stato a finalità regionali come il credito d'imposta ZES che però arriva fino a 100 milioni di investimento, nessun credito d'imposta, quello sisma e il bonus sud che già esisteva ed è esiste e coesiste nelle stesse zone, nella sostanza dà le stesse opportunità. Restiamo in ambito lavoro, la scadenza di contratti e la sostituzione con lavoratori nuovi e minori competenze complica la situazione nel Foundry. Le RSU chiedono per questo un tavolo istituzionale. Vediamo. Torniamo a parlare della situazione nel Foundry relativa soprattutto ai lavoratori somministrati. C'eravamo lasciati con il presidio oggi. Qual è la situazione e qual è soprattutto la situazione che riguarda poi i lavoratori interni all'azienda? Allora abbiamo la situazione sui temporanei come quella che ci eravamo aggiornati diciamo l'ultima volta e quindi mano a mano stanno scadendo, adesso sono scaduti circa il 60% e vengono rimpiazzati da altri nuovi. Quindi sta accadendo quello che noi avevamo già detto e dichiarato all'azienda sul tavolo della trattativa, che volevamo evitare, ovvero il fatto che vengano lasciate a casa persone che hanno acquisito delle competenze in questi anni e che erano diventati dei lavoratori a tutti gli effetti contati nella quotidianità dei numeri minimi che servono per fare determinati pezzi. Quindi essendo lasciati a casa questi e con l'arrivo dei nuovi che sono neofiti e che quindi non conoscono le macchine, la modalità di lavoro, sta succedendo quello che noi non volevamo succedesse, ovvero l'aumento dei carichi di lavoro per tutti i dipendenti che lavorano in produzione e l'abbassamento quindi anche della qualità del lavoro e siamo preoccupati perché potrebbe diminuire anche la produttività sia dal punto di vista quantitativo, quindi spedendo meno fette e sia dal punto di vista qualitativo. Siamo preoccupati anche e soprattutto perché non sappiamo se riusciamo a mantenere fede ai piani per il nostro maggior cliente, quello principale, on semiconductor. Noi non sappiamo se riusciremo in questi mesi a mantenere fede ai piani. Abbiamo chiesto un'audizione all'assessorato del lavoro nella regione Abruzzo, siamo stati ricevuti dall'assessore Quaresimale, il quale ci ha detto circa una ventina di giorni fa che avrebbe convocato un tavolo di confronto fra noi e l'azienda. Stiamo ancora aspettando questo tavolo e nell'attesa non possiamo fare altro che continuare ad andare avanti con le nostre denunce e esortazioni verso l'azienda. Ed ora una news di Cronaca, un inseguimento in pieno centro con velocità ben oltre 100 km orari conclusosi con il recupero di armi e di 15 kg di hashish con l'arresto di tre persone. Scene da film d'azione, questa mattina bussi sul Tirino in provincia di Pescara con gli uomini della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona che sono riusciti a mettere le mani su un ingente quantitativo di stupefacenti che stava per essere consegnato a spacciatori del posto per rifornire il mercato locale e quello costiero. 15 panetti di fumo che i finanzieri hanno rinvenuto all'interno dell'auto un Alfa Romeo Bianco sulla quale viaggiavano i malviventi. E noi rimaniamo in Cronaca, un'altra truffa ai danni di un'anziana è stato arrestato l'autore della truffa dai carabinieri di Chieti principale insieme ai militari della stazione operativa del Nord. Selenia Secondi. Si è spacciato telefonicamente per un maresciallo dei carabinieri raccontando di essere intervenuto dopo un grave incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto il figlio della donna vittima della truffa. La 79enne, una pensionata di Chieti, si è così precipitata a recuperare 1.300 euro meno della metà dei 3.000 euro che le erano state richieste presso l'ufficio postale di Chieti. Subito dopo ha consegnato la cifra temendo che il figlio subisse un arresto come gli era stato detto dai malfattori. La minuziosa attività di indagine svolta attraverso l'analisi dei filmati delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona ha consentito ai militari di accertare le responsabilità di un uomo di 49 anni identificato grazie anche a un'evidente andatura zoppicante. Si tratta di un uomo di origini napoletane, già noto alle forze dell'ordine per analoghe truffe messe in atto con le stesse modalità. Un tipo di truffa legata agli appartenenti al pendolarismo criminale tra Abruzzo e Campania. I carabinieri di Chieti principale, insieme ai militari della sezione operativa del Nord hanno arrestato l'uomo che era nel frattempo ritornato a Napoli. Proseguono ora le indagini dei carabinieri di Chieti, coordinati dalla Procura della Repubblica per accertare le responsabilità della coppia in altri episodi recentemente verificatisi nella provincia. Cambiamo argomento ed ora l'andamento della pandemia. Nella nostra regione sono 1.282. I nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo sono emersi dall'analisi di 2.137 tamponi molecolari e 4.774 test antigenici. I guariti invece sono 628, così gli attualmente positivi in Abruzzo restano 20.589. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 3.371. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, 107 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 3, invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva. Del totale dei nuovi casi positivi, 333 sono residenti o domiciliati in provincia di L'Aquila, 329 in provincia di Chieti, 246 in provincia di Pescara, 278 in provincia di Teramo, 30 fanno riferimento a casi fuori regione e per 66 casi i quali sono in corso. Verifiche sulla provenienza. Voltiamo pagina sul restauro dello storico circolo canottieri La Pescarina, annunciato nei giorni scorsi dalla giunta Masci, intervengono i consiglieri comunali di centro-sinistra che parlano di pasticcio. Paolo Renzetti. Per tutti, la vicenda del circolo canottieri è tornata alla luce di recente dopo l'annuncio della riqualificazione da parte dell'amministrazione comunale, ma fu nel 2015 sotto il governo di centro-sinistra che si iniziò a parlare di riqualificazione del circolo canottieri. Sì, perché il Comune volle subentrare la provincia nella concessione di quel bene demaniale e affronte da un lato dell'importanza del circolo canottieri nella nostra città, tenendo presente che esiste il circolo canottieri come immobile, circolo canottieri come realtà sportiva, sono due elementi di grande valore che coincidono in un luogo e quindi l'obiettivo dell'amministrazione era fare in modo che tutto questo potesse essere reso migliore, avere uno spazio più congruo e riqualificato. Qual è il problema? Il problema è uno solo. Qual è il ruolo che deve avere il Comune? Il Comune non ha solo le competenze proprie, il Comune deve comporre tutte le esigenze che accadono nella città di Pescara. Qui è accaduto semplicemente che la nuova amministrazione, come spesso accade che faccia, ha lasciato la sovrintendenza fare il suo lavoro disinteressandosi completamente del tema e la sovrintendenza ha elaborato un progetto molto probabilmente interessante dal punto di vista del recupero storico-artistico del bene architettonico ma che non si confà con le esigenze o non si confà completamente con le esigenze del circolo sportivo e questa invece è una struttura che deve servire per quel motivo. Io ho anche interessato, Luciano D'Alfonso, il Presidente della Commissione Finanze perché a lui compete in effetti anche il demanio, per cercare di mettere attorno al tavolo il circolo, la sovrintendenza, il demanio e individuare una soluzione perché non è possibile che la sovrintendenza, che in tutte quante le carte, quindi in tutti quanti i passaggi fatti riconosca il valore di questa struttura, una struttura per cui la delibera Cipe del 2017 prevedeva 1 milione e 800 mila Euro, che poi sono diventati 2 milioni e 200 mila quindi un finanziamento consistente e considerevole che veramente poteva rendere quella struttura fruibile, attrattiva da ogni punto di vista adesso di fatto è un bel problema per la nostra città non solo, la perdita della concessione da parte del Comune di quel bene va a mio parere a determinare la chiusura del circolo la probabile chiusura del circolo che adesso dovrebbe addirittura pagare per l'utilizzo della struttura 22 mila Euro l'anno ed è una cifra che un'associazione sportiva come il circolo Canottieri non può assolutamente assumersi Presentata questa mattina nella sala consigliare della provincia di Teramo la nuova sezione dell'ANFE Val Vibrata Pescara l'ente nazionale si occupa da anni dell'assistenza delle famiglie italiane che vivono all'estero la nuova associazione vibratiana pescarese assisterà almeno 5 mila abruzzesi emigrati nel mondo Tania Bonici Castelli Dopo la sezione territoriale dell'ANFE Teramo nasce anche quella di Val Vibrata Pescara e provincia la nuova associazione assisterà dai 1.500 e 5 mila italiani emigrati all'estero e si pone obiettivi ambiziosi come la realizzazione di un centro per curare l'autismo e la progettazione di una pista ciclopedonale dal Tirreno all'Adriatico che ripercorra l'antico confine tra il regno delle due Sicilie e lo Stato Pontificio Presidente dell'ANFE Val Vibrata Pescara Leonardo Di Polito Noi oggi elencheremo alcuni progetti utili, importanti per la popolazione che riguardano praticamente il livello storico, il livello geografico ma soprattutto il livello umano medico perché uno dei progetti fondamentali a cui l'ANFE ci tiene veramente è la personificazione della cura dei bambini purtroppo malati di autismo con la peptherapy e con la ippotherapy e questo è un progetto dove alcuni filantropi, alcuni privati sensibilizzati a questo problema sono andati a bussare la porta dell'ANFE e ci daranno appunto dei soldi per realizzare questo spettacoloso e spettacolare progetto L'ANFE, Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati, è sorta nel 1947 ed è nata per rispondere alla necessità di assistenza degli emigrati e delle loro famiglie e per la tutela dei loro diritti all'estero L'ENTE conta 48 rappresentanze estere in 16 paesi in Italia è strutturato in 44 sezioni provinciali e 16 regionali attualmente assiste 80 milioni di emigrati italiani nel mondo di varie generazioni, dai nonni ai nipoti come spiega Paolo Genco, Presidente Nazionale di ANFE intervenuto a Teramo al battesimo della nuova sezione vibratiana pescarese Quali sono gli scopi dell'ANFE? L'ANFE nasce per assistere le famiglie degli emigrati all'estero accompagnare l'emigrato e assistere la famiglia che rimane nel luogo d'origine in questo caso in Italia perché noi ci occupiamo di emigrati italiani Cosa li sostenete? In tutto, nelle attività culturali, nelle attività assistenza scolastica, formazione e anche l'inserimento lavorativo all'estero dove vanno loro Australia, Venezuela, Argentina e poi lavoriamo molto oggi con i paesi africani Restiamo in provincia di Teramo sarà attivato entro il fine settimana la nuova offerta di noleggio monopattini e bici a Roseto degli Abruzzi La novità prevede l'estensione del servizio anche alle frazioni Vediamo Roseto degli Abruzzi sempre più smart city Dopo i monopattini a disposizione di cittadini e turisti in città arrivano le biciclette elettriche Il funzionamento è del tutto simile agli altri mezzi di bike sharing ma con l'unica differenza dell'obbligo di fine corsa in uno dei terminal segnati in verde sull'app Bike Boom L'azienda di Silvia, giudicataria del bando metterà a disposizione 50 monopattini e 20 bici La grandissima novità delle bici e tra l'altro siamo molto contenti di portarle qui a Roseto che sarà la prima città in Abruzzo a poter sperimentare questo servizio con le biciclette e con l'app Ovviamente ci sarà anche una società pescara che le porterà sappiamo già nei prossimi mesi però comunque Roseto con Bike Boom è la prima in assoluto in Abruzzo quindi per noi è un motivo di grande orgoglio e ci fa davvero tanto piacere poter lavorare a Roseto sia con i monopattini quindi che con la novità delle bici A differenza della scorsa stagione estiva sono stati incrementati i punti in noleggio con l'offerta estesa anche alle frazioni le prime a dotarsene Colonia Spiaggia e Monte Pagano Roseto che ha una viabilità particolare soprattutto nei mesi estivi abbiamo voluto fare questo progetto proprio per cercare di decongestionare un po' quello che è il traffico durante i mesi estivi quindi per il momento abbiamo inserito Colonia Spiaggia e Monte Pagano sperando nei prossimi anni di poter ancora di più allargare il servizio Ed ora l'ampia pagina degli eventi l'Associazione Settembrata Abruzzese ha illustrato il programma per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Costituzione dell'Associazione Vediamo Quest'anno ricorre il settantesimo anniversario dalla nascita della Settembrata Abruzzese Liceo di Biase un grande traguardo ma volete andare avanti? Questo deve diventare un punto di partenza e non di arrivo sicuramente? Sicuramente in questi 70 anni la Settembrata Abruzzese è stato il punto di riferimento del recupero e della valorizzazione della tradizione culturale abruzzese la poesia, il teatro, la musica, l'arte tutto ciò che ha ruotato dal punto di vista antropologico è stato il punto di riferimento quindi è stato veramente il luogo in cui c'è stato il confronto sull'Abruzzo, sull'Abruzzesità e noi continueremo ormai dopo 70 anni un'associazione che vive 70 anni un'associazione che quindi ha dato e ha detto molto all'Abruzzo abbiamo avuto personaggi incredibili che hanno caratterizzato questa associazione adesso si tratta di rendere più contemporanea la lettura di questa associazione non più soltanto una lettura del passato distante ma collocarlo nella contestualità della nostra contemporaneità noi ci rifacciamo sempre, io mi rifaccio sempre nella mia ricerca a una frase di Tostoi se vuoi essere universale parla del tuo villaggio ecco diciamo che la settembrata tenta sempre di più di parlare del proprio villaggio sabato 25 giugno nel campo sportivo della parrocchia di Sant'Andrea sarà un evento dedicato a Borgomarino perché la settembrata ha avuto molto spazio anche a Borgomarino così come invece poi il 3 settembre lo faremo a Largo Madonna e Sette Dolori e poi l'11 settembre nuovamente a Borgomarino ma tra questi due momenti avremo la settembrata itinerante la settembrata che con i propri poeti, gli alettali gireranno almeno una dozzina di comuni diciamo in correlazione con l'evento Accendiamo il Medioevo Restiamo a Pescara dove è stato presentato a Palazzo di Città il festival di teatro, danza, performance, musica, musica, illustrazione e video arti attraverso la tendenza dove si muove quello che ci muove che si terrà il 24, 25 e 26 giugno Vediamo Sessore, una tre giorni presentate questa mattina a Palazzo di Città dedicata a musica, spettacolo, teatro e tanto altro Sì, una nuova rassegna, un festival importante organizzato dal Florian Meta Teatro in cui è molto interessante il coinvolgimento dei giovani delle giovani, perché le curatrici sono delle giovani aperto alle nuove generazioni e aperto soprattutto ai nuovi modi di fare cultura Si apre con una nuovissima iniziativa che si chiama Attraverso la tendenza dove si muove quello che ci muove È un nuovo festival che inizia proprio quest'anno con due giovani e nuove curatrici che sono Sibilla Panerai e Chiara San Vitale Giovani le curatrici e molto giovani anche gli artisti invitati proprio perché facciamo una proposta, come dire, di tendenza Abbiamo tre giorni dedicati alla live art ma anche al documentario, alla video arte, video performance con spettacoli davvero eterogenei infatti il festival si basa sulla commissione dei linguaggi avremo il duo Bassi Caimmi con una ricerca sul corpo il corpo non solo femminile ma il concetto di disequilibrio del corpo poi una serie di video di Goga Mason e Giulia Giannola ci mostreranno diverse tecniche dalla animazione fino invece alla video performance e poi avremo un'altra compagnia Zerilli che presenterà un lavoro Zerilli De Bella che presenterà un lavoro sulla memoria, sul ricordo, il concetto di futuro e poi infine abbiamo lo spettacolo di Maddalena Reverse l'ultimo giorno in collaborazione con Motus il suo segno di Motus una riflessione sul concetto di natura sul cambiamento climatico è l'importanza di poter dare volto alla bellezza della natura che sta scomparendo Ancora gli eventi Vernissage questa mattina per la diciannovesima edizione dell'Indie Rocket uno tra i più longevi e autorevoli festival italiani di ricerca musicale in programma dal 24 al 26 giugno nel parco dell'ex caserma di Cocco di Pescara vediamo Torna al parco ex caserma di Cocco Indie Rock Festival diciannovesima edizione tre giorni di grandi eventi Ritorniamo dopo due anni di pandemia felici di riempire questo parco di musica da tutto il mondo partiamo il 24 giugno venerdì, domani e andiamo avanti fino a domenica 26 giugno le serate sono dedicate come al solito alla contaminazione tra le arti tra i generi musicali da insomma cercando di sorpassare e superare confini sia nazionali che stilistici e siamo felici di avere di nuovo centinaia di volontari che ci aiutano una città vicina e costantemente attenta a quello che combineremo in questi giorni tanta musica comunque tanta musica da tutto il mondo prevalentemente e poi una comunità che si esprime al meglio 19 edizioni sono tante per un appuntamento che ormai è diventato un classico dell'estate pescarese ci piace l'idea di accendere e di iniziare l'estate di Pescara come primo grande evento della stagione estiva e ovviamente negli anni abbiamo imparato a capire come e cosa fare perché sia il nostro pubblico che la città potesse avere un evento degno di una grande capitale europea siamo così giunti alla nostra pagina dello sport Alberto Colombo e il nuovo allenatore del pescare stamani è stato presentato assieme al NeodS Daniele Dellicarri la base di partenza sulla quale si lavorerà sarà un 4-3 per poi trovare sul mercato attaccanti capaci di interpretare più aspetti squadra in ritiro dal 15 luglio a Palena per due settimane ascoltiamo il neotecnico del Delfino al microfono di Andrea Costantini Alberto Colombo benvenuto a Pescara abbiamo già ascoltato alcune sue prime dichiarazioni l'importanza di questa tappa per la sua carriera si è fondamentale questo per la mia crescita personale cercavo una sfida del genere dove mi portasse fuori da una zona di comfort che avevo creato con delle problematiche diverse ma che secondo me arricchiranno il mio bagaglio nella gestione di queste pressioni che chiaramente una piazza come Pescara darà ma sono delle responsabilità che vado e voglio cercare e accettare per poi misurarmi e come dicevo cercare di crescere anche nelle varie gestioni di queste pressioni fare bene a Pescara potrebbe proiettarmi diciamo ad altri livelli come allenatore questo è quello che si vuole perché ognuno di noi ha delle ambizioni però lo faccio con molta umiltà partendo da un concetto che mi piacerebbe avere una squadra umile ma con le giuste ambizioni perché poi credo che nella vita così come nella professione bisogna essere quelli che si è io quindi non farò mai delle dichiarazioni che vadano ad essere eccessive credo che lavorare sotto traccia e lavorare seriamente sia quello che mi ha sempre contraddistinto sperando poi che i risultati mi diano il supporto e il sostegno giusto quello che abbiamo capito un Pescara che sarà 4-3 fantasia almeno come base di partenza per allestimento dell'organico diciamo che io sono uno abituato a dare mi piace una squadra organizzata che sappia comunque nelle fasi di gioco che tutti siano in grado di capire quello che ognuno deve fare quando si dice fantasia non è proprio il termine giusto perché sembra che poi davanti ognuno possa fare quello che vuole l'idea è quella di avere in rosa una batteria di attaccanti che siano con caratteristiche diverse da adeguare eventualmente a quella che è la mia visione se nella rosa del reparto offensivo ci fosse un trequartista magari si può pensare a volte un trequartista con due punte a volte una punta con due trequartisti oppure una volta a volte una punta centrale con due esterni larghi in massima ampiezza abbiamo visto che lei è molto duttile da questo punto di vista ha fatto una stagione intera mi pare anche col 3-5-2 sì diciamo che sono passato all'inizio della mia carriera ad essere un integralista del 4-3-3 perché probabilmente mancando di esperienza mi affidavo a quelle che erano le certezze ora sono nell'evoluzione ho pensato che il sistema di gioco è l'aspetto secondario ma credo che bisogna cercare di mettere i giocatori nelle posizioni o meglio mettere quei giocatori che ti possono far fare la differenza o dare qualcosa in più nelle posizioni più congeniali quindi il sistema di gioco è influenzato poi da quello che sono le caratteristiche di alcuni giocatori tornato in Abruzzo per la partita tra le legend di Juventus e Milan l'ex sportiere e ora allenatore Marco Amelia ha parlato del suo rapporto con l'Abruzzo a cominciare da Vasto dove è allenato la locale formazione di Sarri e D vediamo Marco Amelia è un ritorno in Abruzzo a distanza di qualche anno dall'esperienza di Vasto insomma ci eravamo visti tante volte dopo le partite della Vastese che ricordo hai di quell'esperienza? bellissimo bellissimo uno perché mi piace tanto la città mi piace l'Abruzzo e ho conosciuto una terra che mi ha dato tanto sportivamente mi ha fatto crescere perché comunque ho iniziato la carriera d'allenatore e sono giovane per quello che riguarda poi il mio ruolo Vasto è una piazza bellissima i ricordi sono sempre belli poi ho girato le città qui dell'Abruzzo conoscendo tanti amici ancora oggi torno a Vasto spesso perché ho lasciato amici questa è una terra meravigliosa c'è poco da dire siamo a Roseto e siamo a pochi chilometri da Pescara Pescara la realtà più importante calcisticamente della regione so se avrai seguito quest'anno anche il campionato di Serie C Pescara una piazza che fino a qualche anno fa giocava in Serie A Serie B ora c'è questa Serie C e secondo te cosa bisogna fare per riportare il calcio abruzzese quantomeno in Serie B? ma guarda io credo che il Pescara quest'anno abbia fatto sì probabilmente un campionato al di sotto di quello che sono le aspettative generali però vedendo quello che hanno fatto le altre squadre c'era poco da stargli dietro perché le altre hanno fatto un campionato a parte piacerebbe allenare a Pescara? beh sì è normale mi piacerebbe allenare a Pescara tra l'altro ho tanti amici conosco il presidente Sebastiani conosco tanti dirigenti del Pescara conosco tanti giocatori del Pescara tanti pescaresi e noi cambiamo disciplina da venerdì 24 a domenica 26 giugno andrà in scena al Tennis Club Roseto il campionato nazionale a squadre Lady 70 Final Four a contendersi il titolo di campione d'Italia saranno le squadre del TC Roseto CT Torino CT Lecco e CT Palermo nella squadra di casa militano le atlete Liliana Toscani che per l'occasione assumerà il ruolo di capitano Adriana Federici e Nadea Belluzzi verrà compilato un tabellone a gironi dove ogni squadra dovrà incontrare le altre due per un totale di 18 incontri 12 singolari e 6 doppi si parte venerdì alle ore 10 si prosegue sabato sempre con inizio alla stessa ora le finali per il primo e secondo posto terzo e quarto posto saranno disputate domenica 26 giugno dalle ore 10 il Tennis Club Roseto invita tutti i soci appassionati frequentatori e amici a far sentire il loro tifo alla squadra di casa il livello di questa manifestazione conferma quando già rivelato da diverse ricerche scientifiche il tennis è uno sport che allunga la vita e il nostro telegiornale termina qui io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con velo la trasmissione sul mondo del ciclismo condotta da Jacopo Forcella ideata da Luciano Rabbottini per vedere i nostri servizi andate sul nostro canale youtube o al sito www.tv6.it grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi grazie per la visione